Tre sono le regole. Occhi sull'avversario, grande concentrazione, testa sul campo. Scacco matto. Allena la mente. Gioca a scacchi. Il corso con regole tecniche e l'esclusiva scacchiera con pezzi unici tutti in marmo. Prima uscita Re e Torre a 4,99 euro. La gazzetta dello sport. Scacchi. Lo sport della mente.